Segnali positivi per l'economia della provincia. Di Sondrio, secondo i dati contenuti nell'analisi congiunturale di Union Camera e Lombardia sul secondo trimestre 2022, le aziende registrano risultati in crescita per ordini utili e fatturato sia rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, sia rispetto ai valori pre-Covid. A tirare la volata è l'industria. A confronto del secondo trimestre 2021, settore registra in produzione ordini e fatturato una crescita rispettivamente del 4,2%, del 3,6% e infine del 9,5%. Risultati che diventano a doppia cifra se paragonati alla media 2019, quando il Covid era un incubo da fantascienza. La crescita è del 23,7% per quanto riguarda la produzione, del 21,3% per gli ordini e del 56% per quanto riguarda il fatturato. Risultato quest'ultimo, record a livello regionale. Stessa dinamica per il settore artigiano che in provincia di Sondrio registra risultati positivi in tutte le voci, sia rispetto allo scorso anno sia al periodo pre-pandemia. In questo comparto il record a livello regionale lo registrano gli ordini, cresciuti del 20% rispetto alla media 2019, a fronte di una situazione che in regione registra un calo dello 0,2%. Valore eccezionale quello poi registrato dagli ordini dall'estero, cresciuti del 27,9%. Risultati positivi anche nel commercio e nei servizi, che dopo mesi difficili tornano a superare i livelli pre-Covid. Il commercio registra una crescita del volume di affari del 7,7% con una variazione positiva del 6% sul fronte dell'occupazione. Stessa dinamica nei servizi, con una crescita del volume di affari del 12,8%, altro record regionale, e un aumento dell'occupazione del 3,8%. Numeri positivi che a livello lombardo non cambiano però il sentimento degli imprenditori. C'è poca fiducia che questo trend possa continuare anche in autunno. Grazie a tutti. Grazie a tutti.